bella turma di questo nuovissimo video della serie di Fortnite oggi faremo le scuole insieme a Matti e a Matti salatemi se no non so il tuo canale da febbraio ma andiamo in questa ripresa attiva che non so che per qualcuno non si pregna cioè abbiamo un altro canale ricordo che gli avevo 600 iscritti si avevo 600 iscritti ma che è 50 cioè 59 erano vabbè c'è il instagram ce l'ho dal 25 settembre due anni fa si ma ce l'ho dal 25 settembre di quest'anno è il 25 settembre 2018 vabbè ok c'è il instagram no e a scoprire dei lungomani lui già è stato in un altro video io li ho visto perché non ci fa gente che ha già letto vabbè 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 sennò vi piace che la doppia che scoppia il mio orecchio scoppia come scoppi che scoppia facevo ridere grazie mi stimo solo perchè mi piace riso 251 ringer un card player grazie a me con la carta queste volte sono regalo me lo faccio io il video è mio kill mio è lì lì più o meno è un pazzo è un scemo papo guardate che è la terra una kill per me battiglieni battiglieni pure questa ti lascio questa non è meglio oppure c'è le matti battiglieni 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 come ship e shop oh gente mi hanno fatto mi hanno fatto mi hanno fatto da me mi hanno fatto io corriti corriti vieni bene costa ma mi uscia matiglieni io ve li lascio perchè c'è la kill allora voglio farmi tutti i prezzi ma è che il nuovo acqua è l'olino ora li lasciamo di come ho trovato l'arma che scopia io non ho fatto tutto questo ma va bene non mi volevo le tue pende le tue pende dove di cosa ah ok mi sono usciti i vincitori non ditemi qui tra il po' non following ho trovato una super ci siamo in dati airplanes i minus la cima cosa che obtiene per pello della gente cioè ni ki ti va si è impossibile che per voce io vi ho lasciato bene lì è un kit no vabbè lo resteremo se vi c'è io mi chiedo una carta ragazzi se volete scello io farò lì per i dati che te straceli qui però prova a correre almeno guarda un buon punto lo andiamo a salvare? ci provo io ci provo vabbè per queste lecure per bomba ombra credo che ci riprovo i cinque vendimenti ti prende tutto da questo se ti riesco a salvare eh ma che me fa nulla serio vabbè fico no 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 è stato di guardia 6 vabbè ho fatto 6 a 2 sarò ricordato finché ho venditività non me no non c'è che e guarda arriva devo trovare qualcosa uh se si è figlia la zona il ventilatore come si chiama il ventilatore è là c'è greco ognuno intanto mi pare scala sono stato l'eroe sarò ricordato da tutti e niente non ho sbagliato adesso è morto guarda 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.